Il mondo dei social è fondamentale per la brand identity di un'azienda, bisogna saperli usare e riuscire a vendere i propri prodotti o servizi affidandosi a professionisti del settore. Le professioni del marketing digitale sono tra le più ambite sul mercato, spesso non riesci a trovare il professionista giusto adatto alle tue esigenze. Hai mai sentito parlare di Ads Manager? Sono figure cardine per incanalare la tua comunicazione in meandri della professionalità, ma non riesci a trovare sul mercato professionisti in possesso di queste skills? Il progetto Next, selezionato dal Fondo Repubblica Digitale e Impresa Sociale, ti aiuta a trovare il talento digitale che cerchi. Sei un'azienda pugliese, campana o lombarda? Contattaci e ti avvicineremo all'esperto di marketing che fa il caso tuo.